Frofrog in un suo recente video ha invitato gli artisti della sua community a partecipare ad un'animazione collettiva Ciascun artista ha un singolo frame da realizzare nel proprio stile E il risultato finale è follia E potevo io affascinante auto-home non partecipare ad una cosa così figa A me è capitato questo frame E mi sono messo subito all'opera per trasformare questo micio in uno dei miei auto-homi tanto creepy quanto buffi Ed eccolo qui, cade un po' a pezzi eh, ma lo si ama Grazie Francesca Attendo con ansia il risultato finale